Amici di Youtube, ben trovati da parte di Bianconior a me, buona giornata a tutti quanti Allora, allora, è notizia di ieri sera, sicuramente già qualcuno l'avrà letta in serata Mehdi Di Miral, il difensore centrale che era impresso all'Atalanta, non verrà riscattato dalla squadra bergamasca Sicuramente la non qualificazione dell'Atalanta nelle Coppe Europee ha sicuramente influito su questa decisione Quindi l'Atalanta ha deciso di non riscattarlo Ricordiamo che la Dea doveva versare nelle casse della Juventus tra i 20-25 milioni per riscattare il giocatore Che quindi tornerà alla corte di Massimiliano Allegri, inizierà il ritiro con la squadra a metà luglio E vedremo se la Juventus ha intenzione di puntare su lui il prossimo anno Oppure magari a cercare un altro prestito Io dico che secondo me Di Miral è un giocatore da tenere, assolutamente E ha dimostrato l'anno che era la Juventus più l'Atalanta di essere un giocatore che sicuramente può stare in una grande squadra E quindi io non ci pensavo un attimo e lo terrei Anche perché con De Ligt possono sicuramente formare una coppia centrale di tutto rispetto Ricordiamoci che c'è ancora Bonucci Non credo che Rugani verrà confermato Però ci sarebbe ancora Rugani Però diciamo che iniziare la stagione con De Ligt e Di Miral e Bonucci Sicuramente sarebbe un trio difensivo di tutto rispetto Attenzione perché ci sono anche delle strane sirene su De Ligt Però la Juventus è stata chiara La Juventus non guarda un'offerta inferiore ai 100 milioni per De Ligt Quindi chi vuole l'olandese deve arrivare a Torino Un bel assegnino da 100 milioni e allora forse cominceremo a trattare Però non so quale squadra sia disposta a versare quella cifra Comunque, a perdere questa parentesi La notizia della giornata è che l'Atalanta non riscatterà De Miral Che quindi tornerà alla Juventus a partire dal tiro di luglio Detto questo ragazzi vi saluto Vi auguro una buona giornata E fino alla fine forse Juventus Ciao